Secondo episodio della serie il futuro del bodybuilding italiano avevo fatto un video molti molti mesi fa in cui lancavo tutti gli altri che sono il futuro del bodybuilding italiano in ogni categoria questo episodio non era programmato però ho notato che negli ultimi tempi, negli recenti mesi sono venuti fuori un sacco, un sacco di talenti in ogni categoria ora vi parlerò di un ragazzo che si chiama Simone Bassanelli che gregge appunto nella Open Division Simone però è ancora un amateur, credeteci o meno Simone è ancora un amateur però devo dire che per essere un amateur ma anche in generale per essere un bodybuilder open ha delle masse assurde veramente, delle masse così soprattutto in un amateur penso di non averle mai viste, Simone è una bestia in forma umana e magari alcuni pensano vabbè ma le foto ingannano io posso giurare che Simone anche nella realtà è comunque una bestia l'ho visto alla Yamamoto Cup in cui era lì come spettatore del pro show e ho fatto anche la foto con lui e devo dire che Simone anche di persona è un mostro punti forti sono le braccia, le spalle e soprattutto le gambe spero che riuscirà ad ottenere la pro card ha fatto in questa stagione tre gare purtroppo in entrambe è arrivato secondo è arrivato secondo in due occasioni alla gara di categoria mentre a San Marino Pro, Pro Qualifier di due settimane fa è arrivato secondo all'assoluto come ho detto prima Simone è un atleta veramente mostruoso secondo me avrà un futuro fenomenale penso che nei prossimi 5 anni, 6, 5-6 anni addirittura anche meno Simone riuscirà a calcare il palco d'Olimpia perché veramente è attratto con queste masse, con quelle rotondità muscolari se ne sono veramente molto, molto pochi i punti deboli sono un po' la condizione e un po' la schiena però avrà tutto il tempo per sistemarli dato che ha solo 27 anni quindi è ancora molto, molto giovane però ripeto a quell'età per essere ancora un amateur veramente delle masse, masse assurde secondo me il suo secondo posto ad un Pro Qualifier mi pare che era l'Olimpia amatore è un po' immeritata secondo me Simone meritava la pro card in quel caso però penso che in pochissimo tempo riuscirà a guadagnare quindi in bocca al lupo a Simone Bassanelli per la pro card ora passiamo alla categoria Open Pro quindi bodybuilding professionistico quello che vedete è Fabio Romagnolo che ha fatto il suo debutto da professionista due settimane fa alla Yama Motocup dove è arrivato con un nobile ottavo posto dietro a Team Budesheim anche nel suo caso come Simone Bassanelli Fabio è una bestia in forma ma la condizione, il triplo dell'estremo alla Yama Motocup era squartato praticamente era senza pelle e senza grasso masse veramente assurde con un peso non altissimo pesava 112 kg quindi non un peso particolarmente alto però aveva delle masse che risaltavano un sacco punti forti sono in generale le rotatorietà muscolari anche le braccia sono un buon punto per lui punti deboli un po' le gambe però spero che riuscirà a sistemare questa parte del corpo ripeto Fabio anche lui è una bestia in forma umana solo il suo debutto da professionista due settimane fa e mi ha già colpito veramente un sacco da quello che ho capito non gargerà più quest'anno si prenderà tutto l'anno off tutto l'anno off partirà con la sua off season e cercherà di ripartire l'anno prossimo il suo obiettivo è già fissato quello di portare un peso di 120 kg alla prossima gara dell'anno prossimo e ho visto su Instagram che ha detto che in un anno ha guadagnato 10 kg di massa muscolare quindi veramente una genetica mostruosa e penso che nei prossimi anni farà molto molto bene in Pro League perché lui ha 39 anni e ma garaggiato solo un anno in Pro League ha sempre garaggiato in federazioni minori ora ha aggiunto i suoi obiettivi e ha deciso di passare in Pro League e penso che anche se ha 39 anni farà molto bene perché attratti come Fabio si vedono veramente pochi ripeto condizione il doppio dell'estremo guardate questo suo questa sorta di Christmas tree veramente senza pelle quindi congratulazioni a Fabio per il debutto da professionista e spero di vederti molto più spesso sul palco passando alla categoria Classic Physique questo qui è Andrea Mammoli che ha conquistato la Pro Card all'Olimpia a Amator Milano mi pare un mese fa più o meno un mese fa e il giorno dopo ha fatto anche il debutto da Pro alla Zonami Cup dove è arrivato terzo quindi nel suo debutto da professionista è arrivato al terzo posto battendo atleti come Peter Duper che hanno fatto anche l'Olimpia tra l'altro Andrea è anche l'atleta Classic italiano più giovane di sempre infatti con la sola età di 23 anni è il Classic italiano più giovane anche per lui prevede un futuro strabiliante con ottimi risultati anche per lui penso che in pochi anni riuscirà ad arrivare al Misti Olimpia una cosa che mi colpisce molto di Andrea è che anche se è giovane ha un'esperienza veramente molto alta per quanto riguarda il posing infatti il suo posing è sempre perfetto senza pecchi un posing molto armonioso molto la Classic riesce molto bene a mostrare il suo fisico il suo corpo tramite il posing questa è una cosa che apprezzo molto anche perché nel Classic il posing in generale come per esempio la Posing Routine conta veramente molto ripeto penso che Andrea in pochi anni riuscirà a calcare il palco d'Olimpia ancora qualche qualcosina da migliorare però comunque ha solo 23 anni quindi avrà tutto il tempo del mondo quindi congratulazioni ad Andrea per la Procard e anche per il terzo posto alla Tsunami Cup in bocca al lupo per tutto passando alla categoria 2.12 questo qui è Danny Sticco tra l'altro ho notato che recentemente ci sono un sacco di atleti 2.12 italiani che stanno ricevendo buoni risultati e hanno cominciato troppo la loro carriera da 2.12 appunto Danny Sticco è uno di questi poi c'è anche Pasquale D'Angelo ci sarà in futuro anche Cristian Zangarella che passerà a 2.12 poi ci sarà anche Gianluca Di Lorenzo che ha vinto la Procard a giugno e farà il 2.12 in futuro il prossimo anno poi c'è anche Tony Mancino che ha vinto la Procard un mese fa all'Olimpia Amateur anche lui farà un 2.12 quindi ci sono molti atleti italiani che faranno il 2.12 Daniel ha fatto il suo debutto da Pro a luglio al Portugal Pro con un settimo posto anche se secondo me non meritato secondo me meritava qualche posizionamento in più Daniel è seguito da Mauro Sassi penso che il suo peso in gara fosse all'incirca sotto gli 80 kg al Portugal Pro ma non ne sono molto sicuro però devo dire che Danny pur essendo un atleta basso ha comunque una struttura veramente ottima se guardate il suo front double bicep è veramente ottimo una vita molto molto stretta un V-taper molto molto pronunciato condizione che ha portato in gara molto molto buona si può vedere dai suoi tagli nelle gambe e la separazione tra quadricipite femorale e anche i gluti anche per lui buone masse buone rotolità muscolari buona condizione anche per lui prevede un futuro molto molto buono secondo me addirittura in meno di tre anni riuscirà a caricare il palco d'Olimpia e secondo me non sto scherzando se sono serio su questa cosa secondo me Daniel nei prossimi anni in un futuro molto molto recente riuscirà addirittura a derivare in top 8 al Mr. Olimpia 2.12 perché veramente è un atleta molto molto bella da vedere mi piace molto estetico però comunque con delle masse molto grosse e per questo penso che farà molto molto bene in futuro in un Mr. Olimpia 2.12 quindi congratulazioni tra l'altro deve anche gareggiare tra due settimane a Romania Muscle Fest che sarà la sua seconda gara da pro poi penso che farà anche il Big Man Evolution in Spagna quindi in bocca al lupo a Daniel per le tue prossime gare in Romania e in Spagna passando al Man Physique abbiamo Nicola Scarpa che ha vinto la Pro Card due settimane fa a San Marino Pro Qualifier Nicola lo segue su Instagram è veramente un gigante un mostro tra l'altro si è preparato alla sua prima gara da Man Physique all'incirca due mesi fa con una preparazione durata solo due settimane due settimane infatti la prima gara in vita sua di Nicola è stata a giugno ad un regional in cui ha gareggiato nella categoria Classic Physique facendo molto bene secondo me poi ha deciso di passare al Man Physique solo perché non rientrava nel peso da Classic in una gara Pro Qualifare quindi ha deciso di fare il Man Physique poi alla sua terza gara sempre da Man Physique come la sua seconda gara ha vinto la Pro Card e ora tra due settimane fa il suo debutto da Pro alla Romania Muscle Fest per essere un Man Physique Nicola è veramente molto molto grosso secondo me deve ancora un po' perfezionare il posing però ci sta come cosa essendo un Man Physique da neanche due mesi è normale che il posing sia un po' meccanico però essendo un Man Physique da meno di due mesi ci sta come cosa ha voluto il tempo per migliorare un po' il suo posing quindi anche per lui in bocca al lupo per il Romania Muscle Fest tra due settimane quindi abbiamo visto tutti gli atleti che saranno i campioni di domani del bodybuilding italiano fatemi sapere cosa ne pensate per ognuno di loro in bocca al lupo ad entrambi per le vostre prossime gare e anche congratulazioni per le pro card per alcuni appena conquistate se non siete iscritti iscrivetevi fatemi sapere cosa ne pensate noi ci vediamo nel prossimo video hello guys ciao